ok let's talk about these shoes prima raccolgo quello che non ci serve what's up guys sono vincent e vi dal benvenuti in questo nuovo video se no benvenuto nel canale se ti va iscriviti perché oggi parliamo delle etnis jocelyn sia uno che due come si potrà notare l'ho scrittata entrambe da un po di tempo decisamente tanto credo sia venuta l'ora di darvi qualche mia impressione su queste scarpe tra l'altro l'ho scrittata in linea cronologica quindi parlerò prima delle 1 e poi delle 2 in generale vi posso dire che il feedback è positivo mi sono piaciute ci sono ovviamente dei ma e delle considerazioni da fare ma sono delle buone scarpe sì carina anche l'idea della tecnologia michelin sicuramente dona a tutte e due modelli un sacco di grip un sacco di resistenza nella suola nulla di più però fa figo prima di iniziare ad entrare nei dettagli velocemente vi ricordo ma penso che ormai lo sappiate che queste scarpe mi sono state fornite da downtown downtown e lo skate shop con il quale collaboro ormai da un anno praticamente perché abbiamo iniziato a settembre dell'anno scorso e oggi è tipo il 3 settembre quindi più o meno siamo lì anniversario cenetta romantica lore cosa ne dici perché ve lo dico perché acquistano da downtown non solo supportate la scena italiana perché è un negozio italiano supportate anche me perché mi date una mano con i video e con tutto quello che c'è dietro ma soprattutto vi beccate il 10 per cento di sconto su tutto quello che c'è lì sopra tutto è la roba da skate costa lo dico sempre quindi approfittatene il codice pushing 10 il link in descrizione lì sopra trovate vestiti scarpe tavole track ruote cuscinetti tutto quello che vi serve per fare skate quindi fateci un salto e vedete un po se c'è qualcosa che vi interessa tra l'altro credo provate a correre questi modelli dovrebbero essere in saldo non lo so se no ce ne sono decisamente altri tipo le last resort che mi stanno arrivando non vedo l'ora di skaitarle sono le scarpe di polar molto simili alle vans come piacciono a me incrociamo le dita finito lo spam possiamo iniziare iniziare dalle 1 le differenze ci sono anche perché queste sono delle vulc e queste sono delle capsule come potete vedere la suola qua è un po più alta sono decisamente più morbide questa è decisamente più bassa e sono molto più rigide le scarpe quindi c'è una tecnologia diversa nella costruzione e si sente già solo per questo queste sono morbidissime si rompono super velocemente in inglese sarebbe to break in rompersi nel senso non che si rovinano ma che si adattano al vostro piede si comportano bene a me sono piaciute decisamente perché sono semplici le metti e skate non hanno troppa imbottitura non hanno troppe tecnologie insomma sono delle classiche scarpe da skate se vogliamo simili alle vans a delle vans più semplici chiaramente non gli ultimi modelli che stanno uscendo il feel è decisamente positivo si sente bene la tavola sono comode c'è la giusta imbottitura sulla caviglia e poca sul resto della scarpa però diciamo che il piede si sente abbastanza confortevole dentro queste scarpe chiaramente avendo una suola vulc la pecca e nella sicurezza della vostra pianta del piede infatti c'è decisamente poco spessore tra il terreno e il vostro piede questo può essere positivo perché magari sentite un po più quello che state facendo però se dovete sghepparci giù fare dei trick un po più pesanti rischiate magari di farvi male un po più velocemente la soletta c'è è abbastanza buona nulla di spettacolare di certo non ultra crash di vans insomma fa quello che deve fare senza spingersi troppo oltre in generale parere non può essere che positivo carina questa protezione in più sul tallone sul per fare il come vedete io lo schietate decisamente tanto e a parte un buchino che potrei tranquillamente coprire con della colla caldo con dell'asciugò sono ancora in buono stato o comunque potrei ancora scrittarle per un paio di settimane insomma forse tra le due sono quelle che preferisco non lo so per i miei gusti migliori nel senso che sono nude crude senza troppi fronzoli senza troppe tecnologie le prendi e le skate sicuramente però le jocelyn 2 sono tutto un altro paio di maniche sono delle ottime scarpe intanto è vero che sono state valutate benissimo su qualsiasi sito di review che sono andato a vedere ieri tra l'altro christian flors che è uno youtuber che seguo che fa solo video di scarpe ne ha parlato molto molto bene quindi sicuramente sono delle buone scarpe insomma a me non fanno troppo impazzire solo per una cosa c'è tanta imbottitura davvero tanta sia sulla linguetta e sul tallone sulla parte posteriore anche sulla parte anteriore il che è molto positivo da una parte perché dona un sacco di resistenza alla scarpa veramente tante sono iper durevoli tipo cinque strati una cosa assurda hanno la stoffa uno strato di plastica uno strato sotto la pelle questa qua bianca e poi ancora uno strato sotto quindi insomma sono veramente ineluttabili però tutto questo materiale allontana il piede dallo skate e quindi vi fa perdere un pochino di sensibilità la tecnologia e capsule quindi la sua è molto dura questo vi fa perdere un po di grip e di nuovo un po di sensibilità però sicuramente vi dà un sacco ma un sacco più di sicurezza rispetto alle jocelyn 1 qua la soletta è tutto un altro paio di maniche è molto più spessa la suola insomma su questo punto di vista non c'è niente da dire queste qua le mettete e siete tranquilli sgheppate senza problemi tanto vero che ieri o l'altro ieri qualche giorno fa mi sono fatto un gap abbastanza alto sarà stato un metro e mezzo e non ho sentito assolutamente niente l'unica cosa che ho da dire è che mi si sono rotti due volte i lacci quindi forse la posizione non è delle migliori cambiate siete a posto mi piace un sacco lo strap perché vi tiene fermissimo la caviglia e non dovete stare lì ogni volta a slacciarle riallacciarle si mettono molto bene anche i materiali sono ottimi e sono belle io avevo quasi dispiacere a schietarle perché sono delle belle scarpe avrei voluto anche tenermele per me sì credo di aver detto tutto quello che potevo dirvi su queste scarpe se avete altro da aggiungere magari mi sono dimenticato qualcosa le avete provate volete provare fatemelo sapere nei commenti sono umano anch'io quindi può essere che mi dimentico qualcosa sono belle sono belle tanto tecniche queste invece sono più come ho detto prima grezze se vogliamo le rischietterei probabilmente sì entrambe non non ho niente da dire su questo non mi ci sono trovato al cento per cento perché sto ancora sognando quelle vans avv che ho schietato anni e anni fa cavoli un giorno dovrei riprovarle perché vedremo vedremo se le last resort ci regaleranno emozioni in generale se vi serve un paio di scarpe e le trovate ve le consiglio prendetele spero che il video vi sia piaciuto spero che vi sia servito se vi va telegram in descrizione c'è un gruppo abbastanza attivo tra di noi in cui vi scambiate pareri commenti ogni tanto esco fuori anch'io instagram per avere aggiornamenti in tempo reale qualche giorno fa ho recensito ad esempio la santa cruz che ho schietato ci vediamo nel prossimo video guys peace ciao